Parte da Bari e da Roma la campagna della CGL, no accordo, no controllo, per dire no ai provvedimenti del governo rispetto ad una possibilità concreta che si dà e si riconosce alle imprese di controllare i lavoratori attraverso gli strumenti dell'attività lavorativa, i pc, i tablet, i computer, i microchip. Oggi non sarà più necessario ricorrere ad un accordo con le organizzazioni sindacali, non è più necessario ricorrere ad un accordo con la direzione territoriale del lavoro, il datore di lavoro avrà un potere assoluto nel controllo dell'attività lavorativa. Con questo flash mob la CGL dice no, prova appunto a simulare quello che accade in ogni contesto, dalla commessa, dall'operaio metalmeccanico, dall'operaio edile, rispetto ad un controllo assoluto del datore di lavoro sull'attività dei propri lavoratori. Noi diciamo no e lanciamo da Bari la campagna no controllo, no accordo e per questo la CGL è in piazza insieme ai lavoratori e alle lavoratrici. Noi diciamo no e lanciamo da Bari la campagna no controllo, la CGL è in piazza insieme ai lavoratori e alle lavoratori e alle lavoratori e alle lavoratori e alle lavoratori. E allora chi vi ha detto di fermarvi? Forza io vi pago per lavorare non per far pausa, non per fermarvi, non te lo puoi permettere e volete ricorrere ai sandiacati perché qualcuno non vi tuteli o vi tuteli di più, non esiste più articolo 4, non c'è più statuto di lavoratori, io sono il padrone. Forza lavora schiavo!